Stufo che le tue uole vengano calpestate? Scopriamo oggi qual è la rete giusta. Ciao, sono Marco di Fanshop e oggi, come anticipato nel titolo, parleremo di questa particolare rete per recintare le uole. Eccola qui, Arcoplex. Come potete notare, il suo disegno sopra nella parte superiore dice già qualcosa. Benissimo, allora partiamo col dare qualche caratteristica tecnica. La maglia, una maglia abbastanza larga, quindi 80 mm per 150 mm circa di dimensione. Quindi una maglia molto larga, come vedete entra abbondantemente la mia mano. Diametro del filo. Allora, innanzitutto facciamo una premessa. Il filo in questa rete, il filo verticale, è ondulato, quindi a differenza di tante altre reti, il suo filo appunto va a zigzag. Non so se l'obiettivo lo puoi inquadrare. Quindi, dicevamo, filo verticale del diametro di 3,2 mm e doppi fili orizzontali, quindi sono due che si intrecciano e tengono insieme la rete, del diametro di 2,5 mm esterno. Che formato ha questa rete? Beh, diciamo in base all'altezza, mi spiego meglio. Nell'altezza di 40 cm e 65 cm i rotoli sono da 10 metri lineari di lunghezza. Mentre invece nell'altezza di 90 e 120 cm i rotoli sono da 25 metri lineari. Noi su Fanshop in questo caso non proponiamo il taglio. Qual è l'utilizzo per questa rete? Beh, diciamo che abbiamo già detto tutto nel titolo. È una rete che va bene esclusivamente per recintare le iuole. Quindi se avete una bordura, qualche fiore, insomma, da delimitare e da proteggere relativamente, questa può essere la rete giusta. Argomento posa. Allora, questa è una rete leggera. È una rete che si maneggia abbastanza facilmente. Nel solito grado da 1,5 mm io gli darei un 2 mm come difficoltà di posa per questo modello di rete. Come si posa? Allora, qualche consiglio. Innanzitutto parliamo dei fili di tensione. Voi immagino che possiate immaginare cosa sono i fili di tensione. Sono quei fili orizzontali che normalmente vengono stesi nelle recinzioni per dargli struttura. Beh, questa rete vuoi per la funzione che ha. Quindi un iuola vuoi perché appunto li ha già, non necessita, secondo me, dei fili di tensione. Questi fili che voi vedete in senso orizzontale possono già fungere da fili di tensione. Potete utilizzare questi per metterli in trazione e quindi dargli più nervatura alla rete. I pali, per questo particolare modello, invece, possono essere dei paletti AT, semplicissimi, stando anche sull'economico. Possono essere anche solo delle bacchette, avete presente, qualcuno le utilizza, sono dei semplici tondini in metallo che possono essere ozzincati o verniciati verde, che la tengono su, insomma. Oppure anche per assurdo niente. Perché? Nessun palo perché questa rete, soprattutto immaginate nell'altezza di 40 centimetri e 65 centimetri, quindi non stiamo parlando di grandi recinzioni o grandi altezze, come potete notare lei finisce con questi spunzoni. Qualcuno la utilizza anche appunto piantandola nel terreno ed è sufficiente questo accorgimento qua. Vi posso dare altre informazioni su questo modello di rete. Allora, la prima è il fatto che il filo si sposta. A differenza delle reti elettrosaldate, quindi che il filo è fermo dove viene incrociato uno sull'altro, in questo caso, vediamo se si può vedere bene, in questo caso il filo si sposta perché è tenuto insieme dall'intreccio dei fili. Quindi, tenetene conto, se avete un bambino, magari, o un cane di grossa taglia che ci appoggia la zampa sopra, può aprirla. Altro aspetto è il taglio. Quando voi andate a tagliare questa rete, fate come ho fatto io qua, per questo campione che ho in mano. Tagliatelo a metà della maglia, come se fosse qui, in questo senso. Perché? Perché sempre per il motivo che ha il suo filo intrecciato, se io andassi a tagliarlo qua vicino, si andrebbe a smontare, quindi uscirebbe la prima bacchetta verticale e inizierebbe un po' a smontarsi. Quindi, il taglio a metà maglia, magari un giro in più di nodo sui fili e lei tutto sommato può rimanere insieme.